I miei amici dell'orchestra mi suggeriscono di chiedere a voi che cosa vi piacerebbe? Volete sentire un altro tempo di Mozart o un capriccio di Paganini? Perché preferite Paganini a moto? Allora mi farò un capriccetto Numero 9 che si chiama la caccia Perché sapete che Paganini dava ai capricci, sono studi di altissimo virtuosismo Che Paganini ha composto all'età di 16 anni o 15 A ogni capriccio, ai più caratteristici, ha dato un titolo Allora c'è la risata del diavolo, c'è il tremolo, il saltellato e c'è anche la caccia Allora adesso mi farò la caccia Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.